Passo Ladro Passo Ladro Passo Ladro Passo Ladro ma abbiamo anche salse monocultivar come pomodoro d'atterino, ciliegino, tondoliscio e soprattutto dividiamo le salse, abbiamo passato a salsa e salsa tramandata, la salsa tramandata è una salsa un po' più speciale perché è una ricetta che è stata tramandata dalla nonna del nostro chef al nipote appunto e viene fatta in piccole appazzature e si trova da quella parte. Nell'altra parte invece? Nell'altra parte abbiamo tutto il mondo sottoli e sottoceti, sono tutti conserve, andate trasformate in un laboratorio appunto dopo aver fatto il controllo qualità di frutta e verdura biologica raccolta. Tutta la vostra produzione è bio? Assolutamente, è certificata bioagricert, sì. E uno vuole comprare i vostri prodotti, dove li trova? Può comprare online su www.passoladro.it e spediamo anche box di frutta e verdura fresca ogni settimana studiata da un nutrizionista e dal nostro chef. Ripetiamo per i nostri ascoltatori il vostro sito? Il nostro sito è www.passoladro.it Molto bene, buona fiera, buon lavoro e complimenti per la sua azienda. Grazie, grazie.